Un talk show, una scena benefica con campioni del mondo, una gincana per giovanissimi. A Montecatini è andato in scena il primo Mondial Memory Alfredo Martini, un'interessante e divertente due giorni per ricordare il commissario tecnico più amato della Nazionale Italiana di Ciclismo. Il clou si è avuto al Cinemateatro Imperiale, quando i ridati del calibro di Giuseppe Saroni, Gianni Bugno e Alessandro Ballan hanno risposto alle domande del giornalista Rai Auro Bulbarelli. Il tutto sotto l'attenta supervisione dell'ex ciclista professionista e ora commentatore televisivo Riccardo Magrini. Gianni Bugno, ridato a Stoccarda nel 91 e a Benidorm nel 92, con in ammiraglia Alfredo Martini, ora guarda le corse dall'alto, pilotando gli elicotteri che servono per le trasmissioni TV del Giro d'Italia. Che cosa ti ricordi di Alfredo, visto che siamo nei due giorni dedicati a lui? Di Alfredo ci sono tanti ricordi, non è che non è uno in particolare, non sono un grande oratore, non sono uno che ricorda le cose, gli aneddoti e tutto quanto, che fa degli aneddoti, che racconta gli aneddoti. Diciamo che con Alfredo ho passato tutta la mia carriera, quindi ci sono stati tanti periodi che hanno caratterizzato la mia carriera e la mia vita. Giuseppe Saroni, oro a Goodwood nell'82, è sempre stato uno dei preferiti del CT. Se dovessi dire e ricordare i consigli di Alfredo staremmo qui per molto tempo, però ti devo dire che in generale tutte le parole, tutte le chiacchierate, tutte le volte che arrivavamo assieme, scambiavamo due opinioni, tutte erano informazioni importanti, tutti erano consigli e suggerimenti importanti, perché parlare con Alfredo era importante, era una cosa importantissima, era un maestro di vita, era un fratello maggiore, un papà, era tutto per noi. Alessandro Ballan, mondiale nel 2008, quando Martini era supervisore, alle prese con una squalifica per doping di due anni, ozonoterapia vietata, che scadrà la prossima stagione. Due giorni dedicati a Alfredo Martini, te non l'hai avuto in ammiraglia, però era supervisore quando vincesti il mondiale. Ho avuto la fortuna di averlo a fianco di ballerini, in quei mondiali che ho fatto e devo dire che per me è stato un punto di riferimento, ma anche un aiuto, perché nella vittoria di Varese mi è stato molto molto utile.